Sì 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 No Non è Sì 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 Ma è stata la Sì Sì Oh no, ma io... Allora, io e te ci mettiamo il culo, ma sono un buon acceleraggio e noi ci arriviamo a destra e sinistra. Guarda che se non mettiamo niente, sicuramente. Andiamo meglio. Io sicuramente. Io sicuramente. Wow! No! no